Carissimi, rieccoci nuovamente insieme in compagnia di Riccardo Adorno. Se c'è Riccardo al mio fianco, io sono ospite di Rabino e mi trovo esattamente nella sede storica Pinerolo in Corso Torino 240, dove in Natale è già arrivato perché ci sono tante offerte. Buongiorno. Buongiorno Sonia e un saluto a tutti gli spettatori. Sì, abbiamo molte offerte, sia nella nostra sede qui di Pinerolo che in Corso Torino 18 da Avigliana, nell'altra sede. offerte fino a fine anno, venite a trovarci, venite a vedere tutte le offerte di fine anno sulla gamma Renault, soprattutto su Clio, abbiamo delle pronte consegne sia nel GPL che nella versione diesel e parliamo di tutte le versioni. Quindi parliamo dalla versione Wave che è la versione base alla versione limitata che è la Costum National, personalizzabile come sempre, come la gamma Renault con gli interni e gli esterni personalizzabili. venite a vederle, venite a provarle e sulla gamma Renault, su Clio, sul Captur, anche qui abbiamo delle pronte consegne, soprattutto nelle versioni bicolori e sulla nuova Twingo, venite a vederle, venite a provarle, venite a chiederci il nuovo finanziamento, il finanziamento inclusive che vi comprende l'estensione di garanzia a 4 anni, vi comprende il furto incendio per 3 anni e solo da noi all'Arabino anche le gomme da neve. Vantaggi esclusivi per voi da accogliere assolutamente al volo entro fine anno, quindi non solo su tutta la gamma Renault ma anche su tantissime proposte, per esempio, chilometri zero, vetture aziendali, ricordiamole. Certamente, abbiamo ancora delle aziendali, abbiamo dei chilometri zero, abbiamo anche delle versioni 4x4, chilometri zero, abbiamo dei Coleos, venite a scoprire il prezzo, abbiamo quasi 10.000 euro di sconto su queste versioni, venite a vedere e a scoprire il prezzo degli Scenicchismod a chilometri zero, sia nella versione normale che nella versione cross, con l'Estandle Grip che vi consente di viaggiare su tutti i terreni in assoluta sicurezza. E' giusto ricordare il vostro fiore all'occhiello, l'assistenza, il servizio post vendita, naturalmente a 360 gradi, non solo in questa sede ma anche in quella di Avigliana. Sì, in entrambi le sedi siamo in grado di servirvi sia con l'officina meccanica, con il magazzino ricambi, con i servizi di carrozzeria, per riparare, fare la manutenzione e modificare la vostra auto secondo le vostre esigenze. E terminiamo con gli auguri di Natale che Rabino naturalmente fa a tutti voi e la cornice natalizia è proprio quella giusta. Siamo qui accanto a questa Clio rosso fuoco fiammante da venire assolutamente a vedere e a provare perché è davvero splendida. Tanti auguri Riccardo. Tanti auguri a te e un auguro a tutti gli spettatori. Vi aspettiamo.